Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Silvia Ferrini e collaboro con l'autorità portuale di Livorno su progetti che riguardano l'innovazione. Allora, l'innovazione può essere, come tutti sappiamo, intesa come la radice per lo sviluppo di un singolo porto. Quindi, diciamo, in questo contesto che l'autorità portuale di Livorno sta investendo già da molti anni all'interno di questo settore, con la consapevolezza che oggi la competitività non si gioca più soltanto sotto il profilo della dotazione infrastrutturale di un porto, ma si gioca anche in termini di erogazione dei servizi offerti e ovviamente di infrastrutture. In questo senso intendiamo ovviamente tutte le procedure che possono garantire uno sdellimento ed una semplificazione dei servizi amministrativi ed una telematizzazione delle procedure che possono garantire una riduzione, se non ovviamente un abbattimento dei tempi portuali. Allora, nelle precedenti presentazioni abbiamo già parlato della funzione di Livorno come port gateway, però è importante riuscire a comprendere quali sono i requisiti tecnici che permettono di poter esprimere al meglio questa funzione. Per quanto riguarda il processo di import, è opportuno ricordare che uno dei fattori critici di successo risulta essere la capacità e la velocità di stradamento delle merci attraverso modalità diverse. Quindi in questo senso giocano un ruolo importante sia le infrastrutture che il coordinamento in termini di controllo ed erogazione dei servizi offerti, siano ovviamente essi servizi di assistenza o servizi telematici. Per quanto riguarda invece il processo di export, il fattore critico di successo risulta essere identificato nell'offerta di un consolidamento efficace delle merci. E qui ovviamente risulta importante la presenza di piattaforme logistiche le quali devono essere funzionalmente ed economicamente integrate all'area portuale. Tutto questo introduce un concetto molto importante perché questo concetto si fonda su alcune soluzioni che permettono di identificare la competitività nel cosiddetto long multimodal corridor il quale si sostanzia attualmente in infrastrutture, infrastrutture e servizi di poor community. È proprio da questo concetto che voglio partire perché il concetto di long multimodal corridor, quindi long multimodal corridor mira a garantire lo sviluppo del potenziamento intermodale del porto di Livorno. Quindi da una parte garantisce una migliore accessibilità marittima e dall'altra permette o comunque sia sviluppa e rafforza quello che è il collegamento e la connettività con le reti di trasporto terrestre ed in particolar modo con la rete di trasporto ferroviaria. E quindi è su questo aspetto che noi con questa presentazione ci vogliamo appunto soffermare. Allora, è importante concentrarsi sugli aspetti legati alle infrastrutture e ai servizi di poor community affermando che l'idea sostanziale risulta essere quella di adeguare le infrastrutture alle necessità di fluidità del long multimodal corridor cercando di garantire una connettività, una connessione virtuale continua tra tutti gli operatori del ciclo del trasporto quindi siano essi operatori che operano in ambito marittimo o siano essi operatori che operano in ambito terrestre. Quindi l'idea è quella di riuscire ad ottimizzare le infrastrutture cercando da un lato di ottimizzare il cambio modale ferro-mare cercando di aggiornare costantemente i closing time quindi sia lato terra che lato mare cercando di garantire una connessione continua in termini di comunicazione tra tutti gli interlocutori del trasporto e cercando altresì di garantire una pianificazione corretta dei tempi di arrivo dei treni blocco presso le aree portuali questi elementi che sono ovviamente elementi fondamentali devono essere integrati con quello che precedentemente appunto affermava l'ingegner Scalpellini cioè un indirizzo strategico che l'autorità portuale si propone di perseguire che consiste nella creazione di un task and poor community system che si è esteso esteso perché da una parte permette l'offerta e l'erogazione di servizi a valore aggiunto agli operatori ovviamente della comunità portuale e dall'altra permette di far sì che il poor community system sia completamente interoperabile con le altre piattaforme telematiche ed informatiche che sono gestite da parte di tutti gli operatori della catena del trasporto e com'è che riusciamo a ottimizzare sia le infrastrutture ed i servizi l'ottimizzazione avviene grazie alla cosiddetta integrazione di processo l'integrazione di processo consiste nella creazione di modelli di comunicazione operativi tra più piattaforme telematiche le quali gestiscono a loro volta dei processi che sono differenti e diversi per esempio nel nostro caso specifico quindi calando il concetto di integrazione di processo nel porto di Livorno possiamo affermare che la stessa nell'ambito appunto del trasporto dell'integrazione ferro-mare avviene attraverso un'integrazione dei processi che vengono gestiti lato mare dal task and poor community system e dei processi che vengono gestiti lato ferrovia dalla cosiddetta piattaforma integrata della logistica i cui dettagli verranno successivamente forniti dall'ingegner Locurto di Ferrovie dello Stato brevemente posso appunto affermare che la piattaforma integrata della logistica è una piattaforma telematica a supporto del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che cerca di ottimizzare la logistica per le merci in un'ottica intermodale quindi ci stiamo già avviando insieme al gruppo Ferrovie Italiano dello Stato ad una successiva sperimentazione che prevederà degli interventi sui principali collegamenti mancanti che si sono presentati e si vanno a presentare all'interno appunto del flusso informativo dei processi che caratterizzano rispettivamente il trasporto marittimo e il trasporto ferroviario per quanto riguarda il processo di import allora diciamo che i principali flussi informativi sono stati analizzati dalle Ferrovie dello Stato e poi sono stati tradotti in un modello di flusso che vedete appunto qui rappresentato all'interno dei rettangoli rossi sono identificati quei flussi informativi che attualmente possono essere identificati come missing link cioè collegamenti mancanti in quanto attualmente non sono automatizzati e quindi comportano un incremento sostanziale del tempo necessario per poter portare a termine ed effettuare appunto il trasporto l'idea è quella di intervenire su alcuni inizialmente appunto con questa prima sperimentazione su alcuni dei principali collegamenti mancanti per quanto riguarda il processo di import andremo ad intervenire direttamente sulla proposta di carico quindi sulla composizione del treno e sulla creazione della distinta treno quindi riferimento all'abbinamento caro container per quanto riguarda invece il processo di export il nostro intervento diretto nella prossima sperimentazione farà riferimento alla prenotazione di ingresso del treno presso il termine al container portuale ovviamente l'idea è quella di riuscire a sanare tutti i collegamenti mancanti e ad intervenire su tutti quelli che sono i missing link per creare un'integrazione di processo che sia reale, completa, efficiente ed efficace quindi adesso passo la parola all'ingegnero Curto che appunto fornirà ulteriori dettagli in merito alla piattaforma integrata sulla logistica intanto buongiorno a tutti sono Vincenzo Locurto delle Ferrovie dello Stato e in questa breve presentazione anche visti i tempi cercherò di raccontarvi cosa ha fatto e cosa sta facendo il gruppo Ferrovie dello Stato sul tema soluzioni IT per la logistica vi introdurrò brevemente in un paio di slide cos'è il programma PIL che ha accennato già la dottoressa Ferrini PIL è piattaforma integrata della logistica ed è, se vogliamo fare un paragone col mondo portuale il nostro PCS la nostra piattaforma telematica di servizi IT per la logistica come sapete il gruppo Ferrovie dello Stato è un gruppo molto variegato che non ha soltanto le sue anime più note che sono Rete Ferroviaria Italiana e Tranitalia ha anche una serie di società che operano servizi di logistica dagli MTO quindi gli operatori logistici CEMAT, FS Logistica ai servizi di terminalistica ai servizi di manovra la situazione diciamo quello che abbiamo trovato cioè quello che c'era nel 2008 quando è partito il programma era diciamo un mondo ancora poco informatizzato quello che è stato fatto in questi anni in tre fasi successive che abbiamo chiamato PIL 1, PIL 2 e PIL 3 è stato sostanzialmente realizzare tutti i sistemi informativi a supporto dei processi core inizialmente per passare poi alle integrazioni di processo una volta che erano state fatte le fondamenta quindi i servizi e i sistemi a supporto di chi fa l'operatore logistico per il gruppo di chi fa terminalistica e così via siamo potuti passare on top con le integrazioni di processo quindi l'apertura verso il mondo esterno le integrazioni con tre soggetti principalmente l'autotrasporto il mondo delle dogane e il mondo della portualità che è quello poi che più ci interessa in questa sede ultimo nato della famiglia è il mondo delle manovre ferroviarie che da circa un anno e mezzo è stato diciamo liberalizzato se vogliamo ovvero rete ferroviaria italiana come sapete è uscita dalla gestione della manovra è stata affidata a soggetti terzi vuoi soggetto unico delle manovre vuoi autoproduzione e anche questo settore è stato oggetto di informatizzazione molto rapidamente questi sono un po' tutti i temi che sono stati toccati in questo programma quindi non soltanto processi core che hanno permesso diciamo di gestire i servizi veri e propri ma anche on top integrazione di processi e servizi che è un po' il mondo in cui siamo arrivati adesso e efficientamento e servizi accessori vedi piattaforme di reportistica big data vedi portale web dei servizi vedi html5 e tutto quello che oggi la tecnologia offre in termini di efficientamento avendo già una forte base consolidata ultima slide introduttiva e passo ai processi soltanto per dirvi che per ribadire come è variegato il mondo ferroviario dello Stato e come si presenta verso l'esterno la parte più importante se vogliamo di questa slide è questo bus qui di integrazione che abbiamo chiamato LMF Logistics Management Framework che è un po' anche qui se vogliamo fare un parallelismo la nostra single window cioè il modo in cui il gruppo ferroviario dello Stato per la logistica si presenta verso i soggetti esterni ed è il punto di integrazione di tutti i processi di scambio dati di cui parliamo nelle prossime slide Allora integrazione ferromare qui dirò veramente poco perché alcune cose sono state già dette e già ne ha parlato la dottoressa Ferrini sostanzialmente il gruppo ferroviario dello Stato con la PIL si propone come interfaccia di scambio di messaggi di business verso operatori esterni in particolare verso la comunità portuale il PCS in questo caso è la nostra controparte tutti questi sono i principali processi che sono oggetto di interfaccia se vogliamo sia in import che in export e tutti questi sono stati informatizzati non aggiungo molto altro se non che qui c'è il dettaglio di questi flussi quindi in import c'è tutto il tema della ritirabilità dei container oggi tipicamente un MTO che vuole ritirare un container deve chiederlo al porto se è pronto deve andare sul suo sito piuttosto che farlo in maniera non informatizzata stessa cosa il tema del treno in partenza il treno in partenza in genere è una sorta di collaborazione tra il proprietario del treno e il terminalista in cui tipicamente si chiede caricami questi 20 contenitori di cui ti dico le matricole più mettimene altri 20 vuoti di questa compagnia e se c'è spazio caricami quelli della nave X e tutto questo genera uno scambio di informazioni di mail di telefonate che va avanti nel tempo quello che abbiamo fatto è stato informatizzare questi flussi sia in andata che in ritorno permettendo uno scambio di messaggi di business attraverso quella piattaforma che avete visto prima LMF che sostanzialmente elimina la carta elimina le telefonate elimina le mail e rende questo processo molto più efficiente l'ultima cosa che aggiungo su questo è che stiamo partendo con la realizzazione con il porto di Livorno diciamo che siamo già in una fase avanzata ma abbiamo anche in casa una sperimentazione in esercizio con il porto di La Spezia che ha portato dei risultati notevoli con mutuo beneficio di entrambe le parti nel processo di importazione stessa cosa per l'esportazione cambiano soltanto i processi ma la comunicazione bionivoca resta la stessa i temi fondamentali sono quelli della finestra di operatività delle navi ovvero sapere che priorità dare ai carichi in export in funzione delle chiusure delle navi c'è poi tutto il tema della prenotazione treni in arrivo o distinta carri del treno in arrivo quindi comunicare al porto di destinazione qual è la composizione del treno con un anticipo molto maggiore di quello che si fa oggi fino ad arrivare a dirlo quando il treno sta partendo o addirittura quando si sta formando nel terminal di partenza e fino al tema dell'abbinamento booking contenitore quindi tutti i temi di integrazione su cui Ferrovia dello Stato ha lavorato lavora e offre chiede e offre perché poi sono processi win-win questi si ottengono e si danno informazioni offre servizi di integrazione tema dei corridoi doganali è stato anche questo citato più volte nelle presentazioni precedenti la dottoressa Querci ha parlato anche dello sdoganamento in mare questo è un servizio molto nuovo sostanzialmente è stato emesso dall'autorità delle dogane il procedurale nel mese di maggio sono stati emessi a distanza di pochi giorni sia il procedurale gomma che è il procedurale ferro e che si vanno ad affiancare a quello che è se vogliamo il procedurale mare ovvero sdoganamento in mare è un'alternativa allo sdoganamento in mare non è che lo nascondiamo lo sdoganamento in mare resta valido anzi come Ferrovia dello Stato ci fa piacere se le merci vengono sdoganate in mare perché si diminuiscono comunque i tempi di caricamento del treno i tempi di importazione questa è un'alternativa perché sappiamo che anche dove viene utilizzato lo sdoganamento in mare comunque una quota significativa di merci in importazione arriva al porto da sdoganare questo ad oggi significa tempi più lunghi perché bisogna aspettare lo svincolo sdoganare oltre a quello commerciale poi c'è il caricamento del treno la somma di tutto questo rende la modalità su ferro meno competitiva rispetto alla modalità su gomma abbiamo sentito anche le percentuali sempre nell'intervento della dottoressa Querci il nostro obiettivo credo l'obiettivo comune di tutti sia quello di incrementare questa quota di incrementare la percentuale di traffico su ferro soprattutto in importazione cosa abbiamo fatto come ferroviario lo stato insieme all'autorità delle dogane abbiamo lavorato a questo procedurale che diciamo istituzionalizza la procedura di sdoganamento veloce fast corridor ferroviario cosa significa significa che i contenitori una volta sbarcati possono essere immediatamente caricati su treno senza aspettare la dichiarazione doganale portati in un termine al container ferroviario di destinazione che può essere Bologna Verona Padova insomma a seconda dei corridoi che il business richiede qui stoccati in un'area temporanea custodia e qui può essere fatta la dichiarazione doganale a seconda dell'esito possono essere avviati all'uscita intermodale via camion piuttosto che in attesa di verifiche controlli tutto questo tra regioni diverse ovviamente perché il corridoio doganale nell'ambito della stessa regione avrebbe poco senso o aveva poco senso visto che il treno è una modalità conveniente su distanze medio-lunghe e tutto questo soprattutto grazie all'ausilio dei sistemi che monitorano il corridoio e monitorano il movimento dei container e che permettono all'autorità delle dogane a tutti i soggetti deputati a fare i dovuti controlli di verificare dov'è la merce di verificare se ci sono alert se il viaggio dura più di una certa soglia se il treno è fermo da qualche parte insomma di parametrizzare e utilizzare degli alert per avere il controllo diretto della merce facilitati dal fatto che il treno non è che gira molto va dritto su una rotaia anche questo non è sulla carta è stato emesso il mese scorso il procedurale noi contiamo di attivare entro il mese di giugno due corridoi che sono la Spezia Bologna e il Gioia Tauro Bari e speriamo di attivare presto anche integrazioni che riguardano il porto di Livorno un'altra slide un'altra slide solo per forse chiarire meglio qual è il processo il processo prevede che nel manifesto merci in arrivo l'armatore o il suo agente o chi fa l'MMA dichiari come destinazione della merce non il porto ma il terminal di destinazione a questo punto allo sbarco della nave tutte le partite che dall'esito delle verifiche dell'MMA tutte le partite a tre che sono in attesa di esito piuttosto che soggette a vincoli a controlli safety and security restano in porto tutte quelle svincolabili possono essere caricate su treno su corridoio controllato arrivare nell'area temporanea custodia e qui essere sdoganate idealmente essere sdoganate già in treno ma nella pratica molto più realisticamente essere sdoganate all'arrivo tutte quelle che hanno il semaforo verde possono uscire questo ovviamente ha vantaggi per tutti in primis per il porto che ha una uscita più veloce dei container e sappiamo quanto sono preziosi gli spazi in porto seconda cosa per Ferrovie dello Stato perché aumenta la quota di trasporto su ferro rispetto a molti contenitori che prima magari sarebbero usciti via gomma e questo direi che è un beneficio non soltanto per le ferrovie ma anche un po' per il sistema paese per tutti i vantaggi della modalità ferrovia aria legati a sostenibilità minore inquinamento e così via ultimo tema soluzioni per la manovra ve l'avevo accennato prima è una novità negli ultimi mesi poco più di un anno il processo manovra che prima era gestito interamente da rete ferroviaria italiana quindi sostanzialmente l'ultimo miglio ferroviario adesso è affidato nei vari nodi a seconda del nodo a un soggetto unico che può essere Terminal Italia Surfer in molte realtà italiane piuttosto che a soggetti terzi piuttosto che gestito in autoproduzione dalle imprese ferroviarie il gruppo Ferrovie dello Stato nelle sue varie facce sia come gestore dell'infrastruttura sia come soggetto unico in alcuni casi si è dotato di strumenti e di interfacce per gestire la novità del processo manovra quindi ha realizzato una serie di sistemi che permettono in primo luogo ovviamente ai propri gestori di manovra quindi Terminal Italia e Surfer che ho già citato di gestire il processo di manovra e in secondo luogo a tutti i soggetti terzi il gestore di infrastruttura per le attività di coordinamento tutte le imprese ferroviarie come richiedenti manovra e tutti i soggetti terzi Terminal Porti e quant'altro di avere accesso alle informazioni di propria pertinenza per quanto riguarda la manovra ferroviaria che come sappiamo è un processo abbastanza organico e complesso per la quantità di attori che coinvolge vi faccio solo vedere qual è la quantità di processi in ambito questo è lo scenario che abbiamo chiamato full ovvero quello in cui anche le operazioni di manovra vengono svolte da un soggetto del gruppo ferroviario dello Stato quindi qui non parliamo soltanto di interfacce di interazioni con altri soggetti per quanto riguarda i passaggi di responsabilità lo scambio di documenti elettronici per quanto riguarda MAD e consegna dei rodabili esigenze di manovra comunicazioni di arrivo e partenza treno ma anche tutto quello che riguarda l'operatività effettiva della manovra quindi ordini ai mezzi di manovra quitanza di manovra l'utilizzo di dispositivi mobile sui mezzi di manovra per avere indicazione in tempo reale di inizio e fine delle operazioni piuttosto che mappatura dell'impianto sia per la parte di rete nazionale sia per la parte di infrastruttura non RFI portuale piuttosto che interportuale anche quest'altra questo terzo stream diciamo non è soltanto una cosa che vi sto raccontando ma è in esercizio ad oggi in tre realtà che sono Bari Verona e Ravenna e contiamo di portarla entro quest'anno in molte realtà portuali e interportuali l'altra alternativa che è la versione che abbiamo chiamato light è quella in cui non è Ferrovie dello Stato con una delle sue società a fare il gestore di manovra ma comunque come RFI quindi come gestore dell'infrastruttura mette a disposizione di soggetti terzi ad esempio un soggetto unico che opera come gestore di manovra in un porto di interfacciarsi con RFI e con le imprese ferroviarie per le operazioni di manovra ovviamente in questa seconda soluzione light non si entra nell'ambito della manovra vera e propria ovvero nel rapporto che l'operatore di manovra ha con le sue squadre con i suoi mezzi e nella sua operatività nella sua esecuzione delle operazioni vera e propria perché probabilmente già lo fa in proprio e dotato di un suo sistema ma si lavora su tutto quello che è l'interfaccia l'interfaccia con RFI perché vuole sapere dove sono dove sono i carri dove sono i mezzi quali sono le richieste le manovre previste da programma estemporanea e così via piuttosto che interfaccia con i terminal con le imprese ferroviarie e con gli altri soggetti grazie grazie Grazie.